Ma diciamo nì, penso che il primo tempo siamo stati per 45 minuti nella metà campo di là, loro non hanno mai giocato, non hanno creato niente tranne una ripartenza, il primo tempo in contropiede, ma siamo stati per 45 minuti a giocare completamente nella metà campo di avversaria, non sono mai usciti, non hanno mai palleggiato. Allora, secondo me il fatto di venire uomo contro uomo, insomma, sapevamo che sarebbero venuti in questo modo qua, ci può aver facilitato le cose, perché noi siamo abituati a giocare uomo contro uomo, quindi era un sistema di gioco a specchio e secondo me ci ha facilitato molto il compito. Siamo stati bravi a trovare il gol, potevamo raddoppiarla in più di un'occasione, poi è normale che quando giochi uomo contro uomo alla squadra che pressa di più, che eravamo noi, un po' di stanchezza e subentrata, però a parte l'ottima parata di Nordi, il secondo tempo non hanno fatto, penso, praticamente nulla, sono una buona squadra, una squadra giovane, una squadra che gioca bene, questo sicuramente, però insomma, penso alla disanima della partita di oggi non ha una grande storia. Poi se ci vogliamo, io penso di averla vista così, poi forse a volte mi sbaglio, la vedo diversamente, però la... In settimana della partita ha detto che voleva venire in gol, si ha fatto uno, forse dobbiamo tirare di più, pochi in gol? Sì, noi dovevamo tirare di più perché riuscivamo a manovrare molto bene, arriviamo spesso, specialmente al primo tempo è stata una gara, io avevo detto in settimana che volevo vedere un gioco, una manovra, e quando si chiudono come facevano loro è normale che l'arma in più e il tiro da fuori, cercare di sbloccarla in questa maniera qua, però ho rivisto tante trame di gioco, e poi è normale che quando la palla arrivi in aria sarà un caso, due volte che riusciamo a crossare, una volta Letizio, una volta Infantino, abbiamo fatto gol. Questo non significa che abbiamo fatto completamente quello che io vorrei perché potevamo creare di più, però mi è piaciuta la manovra, oggi a differenza di tutte le altre volte abbiamo fatto bene, poi nel momento in cui dovevamo non rifiatare perché non abbiamo mai rifiatato, però cercare di contenere, siamo stati bravi, poi loro al secondo tempo ci sono affidati solamente a palloni lunghi per attaccarci la profondità e siamo andati un po' in apprensione, ma ci sta, su una palla lunga poi non sai mai dove va a finire, poi siamo stati intelligenti alla fine a chiuderci abbastanza bene, sapevo che era una squadra forte, per me è delle squadre di fatti di giovani, quella che gioca anche meglio, però siamo stati bravini. Allora, mi sono piaciuti sia Seppe che De Giorgi, Seppe penso si sono viste quelle caratteristiche di questo cross in corsa, ha messo 3-4 palloni veramente ottimi, De Giorgi è uno stantuffo, è un cursore che può essere utilizzato anche da terzo di difesa per creare queste superiorità numeriche che oggi siamo stati bravi pur giocando con un modulo speculare a riuscirle a creare tante volte con Sabato, un po' meno con Gambaretti, tante volte con i mediani alle spalle dei mediani loro avversari e quindi ha fatto bene anche De Giorgi. Corrado è entrato bene, mi è piaciuto, è entrato con cattiveria, ha fatto la guerra e basta. Io ho visto che c'è un buon Catanzaro, ho visto un buon Catanzaro, ho visto un buon Catanzaro con qualche difficoltà in un secondo tempo, mi consento di dire un buon Catanzaro trascinato da un ottimo centrocampo. che diceva prima della partita con Ieri, insomma, voleva vedere anche Iori, ma anche in centrocampo a 4, mi pare che non la coppia Maida non è sconfunzionale, se onestamente non riesci a dire, credo che di Maida non si possa fare a me, insomma, tu quando cambia le partite si ma io quando ero venuto qua, è stato fatto anche un lavoro su Mattia, penso anche psicologico, perché finché il calciatore non si convince di poterlo fare, non lo fa. Lui ha capito che può farlo quel ruolo lì, poi ci siamo anche detti in settimana che cercherò di giocare un po' meno uomo contro uomo, perché è normale che l'uomo contro uomo porta un sacrificio fisico enorme che forse non sono proprio le proprie caratteristiche, puoi continuare a giocare a due, andando un po' più sulle traiettorie di passaggio cercando di essere meno aggressivo, però vi dico, oggi Montonite ci ha facilitato il modulo con cui sono venuti perché ognuno aveva il suo riferimento e noi l'abbiamo fatto per due o tre mesi questo tipo di gioco però sono d'accordo con te, perché se è quello che ha fatto, è quel giocatore che può avere un po' più di qualità ma anche una discreta fase di non possesso, però sono d'accordo sul fatto della manovra che hai detto per me nel primo tempo era un piacere vederli giocare, pur non tirando tantissimo, creando varie occasioni pericolose però si muovevano veramente bene, poi la partita un po' ci siamo allungati, come era giusto che sia loro hanno anche giocatori di qualità, penso che l'analisi sia questa Ma Zanini aveva la febbre 38, se è stato stamattina aveva la febbre 38, ho parlato con il ragazzo ho detto, mister sto male, quindi De Giorgi l'ho spostato quarto Io ho chiesto, quando ho saluto alla società ho chiesto che durante gli allenamenti, quando vedete porto sempre due o tre ragazzi della Beretti, diciamo quelli un po' più pronti sono sempre che si allenano con me, penso che sia anche il compito di un allenatore cercare di valorizzare quello che può essere il settore giovanile parlate con uno che per i giovani, non voglio dire stravedo, però avete visto che li ho fatti giocare io non ho problemi, Ielo è uno di quei giocatori che sta facendo bene, spero col proseguo di portare degli altri, poi piano piano con le giuste dosi, di poterli inserire Ma guarda, io volevo tornare a vedere il Catanzaro fino a Pagani perché noi siamo stati un bel Catanzaro fino a Pagani anche nel pareggio non siamo stati il Catanzaro nelle due partite dove, passatemi il termine forse si è passato un po' troppo dalle stelle alle stalle sono state due partite particolari, a Caserta mancavano sette titolari e con la Regina, a me il dispiacere è grande, poi non ci siamo più visti è stato aver perso un derby per la città, dopo che avevo avuto quello con Cosenza capisco, però è anche vero che nell'analisi della partita della Regina ho beccato un calcio d'angolo, ho avuto 6-7 palle gol ed è finito 1-0 io analizzo sempre il calcio, quindi volevo tornare a essere quello che eravamo stati a Castellamare lo siamo stati, con le difficoltà che abbiamo avuto andiamo a Lecce con la consapevolezza che noi dobbiamo giocare a calcio io anche a fine primo tempo gli ho detto continuate a giocare a calcio voglio che continuino a fare questo con le difficoltà che avremo di una partita proibitiva però l'abbiamo fatto a Trapa, l'abbiamo fatto a Catania non è cambiato il nostro modo di essere sappiamo che paradossalmente c'è nulla da perdere però andiamo a giocare con serenità e tranquillità grazie mi dà un inizio su Infantino non ha toccato tantissime parti si rivela mortifero si quello che dicevi prima infaticando un po' tirare in porta però mi ce l'ha aiutato soprattutto lui perché appena ieri non ho fatto lui è tuo certo ma lui se noi andiamo a vedere un po' la storia di Infantino lui è il classico centravanti d'area non possiamo aspettarci da Saveriano chissà quali giocate e quindi dobbiamo mettere nelle condizioni di fare quello o mettendoci due o trequartisti più vicini a lui o arrivando in continuazione sul cross col quarto col terzo di difesa dobbiamo cercare di sfruttare quella caratteristica che è un po' anche quella di Corrado pur essendo un po' più mobile però ti dico oggi ho visto un Saveriano che in alcune occasioni ci ha difeso la palla ha fatto salire la squadra tempo fa facevamo fatica a reggere la palla su non a portarla è in crescita però va sfruttato per le sue caratteristiche che sono quelle di finalizzatore non di centravanti che fa giocare la squadra passatemi il termine non che non lo sa fare questo penso ok grazie a voi ci vediamo grazie grazie